ok allora salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi a un video macchina benissimo oggi non volevo fare un video perché non avevo nulla e anche se avevo il desiderio di farlo ma non avevo nulla invece poi mi è giunta questa mail e siccome è una mail diciamo che è molto semplice da rispondere ho detto beh tutto sommato non devo non devo fare altro che rispondere e mi sono sentito di rispondere a questa mail data anche la sua veramente semplicità ovviamente come sempre manteniamo la riservatezza quindi il completo anonimato nei confronti di chi ci scrive allora quindi buongiorno alessio ok buongiorno a te carissimo dio ti benedica mi dice che sto preparando uno studio sull'apocalisse benissimo stai preparando uno studio ok mi trovo molto d'accordo con quanto dici ma avrei delle osservazioni quindi gloria a dio per le tue osservazioni ti ringrazio per rappresentarmene e ne parlerò pubblicamente allora tu dici dove abbiamo la certezza che i 144 mila vengono uccisi ok una buona domanda e come discorso generale no invece come discorso circoscritto se tu stai preparando uno studio sei un insegnante giusto ok e quindi da un insegnante io non mi sarei mai aspettato una domanda del genere ok visto che tu hai delle osservazioni io a sua volta ti rispondo con altrettante osservazioni visto che sono sigillati da gesù per essere protetti dall'anticristo buona domanda buona osservazione come discorso generale ma se poi andiamo anche qui nello specifico da uno che insegna bibbia tu esordisci con buongiorno appunto buongiorno e dio ti benedica la pace del signore sia con te pace shalom fratello buongiorno visto che sono sigillati per gesù quindi siccome sono sigillati non devono morire ripeto tu mi scrivi per farmi delle osservazioni io nell'amore del signore ma nella franchezza del cristiano ti rispondo ti inizierò a rispondere poi prosegui e dici non vengono appartati da i quattro angeli in matteo 24 ok comincio a vedere che c'è un bel po di confusione ripeto come discorso generale queste domande ci stanno ma poi nel nello specifico tu dici che stai preparando uno studio sull'apocalisse quindi dovrai insegnare la gente quindi sei uno che insegna un insegnante ma io noto qui confusione non vengono appartati da i quattro angeli in matteo 24 in appartati dai quattro angeli in matteo 24 e dove sono in matteo 24 quattro angeli cioè tu in matteo 24 vedi quattro angeli uno due tre e quattro cioè da dove tiri fuori che in matteo 24 ci sono quattro angeli quattro matteo 24 lo non faccio vedere per privacy tu scrivi questo quattro angeli li troviamo in apocalisse e matteo 24 non fa alcun riferimento a quattro angeli che poi tu ce li voglia vedere io non entro nelle tue cose personali è quello no però entro nelle cose bibliche insieme agli eletti credenti sopravvissuti che entreranno poi nel millennio poi dici ci sono 21 giudici giudizi giudizi io parlo arcaico perché leggo una vecchia di odati ci sono 21 giudici anche se il settimo sigillo apre alle sette trombe e la settima tromba apre alle sette coppe certo nel settimo sigillo e nella settima tromba ci sono dei movimenti ma li considererei fai bene a utilizzare il termine considererei e non qualcosa di tassativo perché è una tua opinione allora tu li considereresti al condizionale più come passaggi che giudici ok cosa ne pensi grazie per il tuo gentile riscontro e ti firmi benissimo no grazie a te per scrivere quindi allora dove abbiamo la certezza che i cento partiamo dalla prima domanda dove allora noi abbiamo fatto decine 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 di studi sul libro del apocalisse e per per comprendere il libro dell'apocalisse c'è un percorso da fare quindi nessuno si sveglia la mattina in 24 ore in un mese in due mesi in tre mesi capisci il libro dell'apocalisse quindi ci vogliono anni ok eccetera 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 e c'è anche il percorso di fede tu nasci di nuovo dovresti ricevere il battesimo dello spirito santo cresci in una chiesa eccetera 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 fai parte di un corpo ci sono pastori ministri evangelisti eccetera eccetera cresci nell'unità del corpo e man mano lo spirito santo va aggiungendo conoscenza esperienze e quant'altro e vai maturando un certo una certa conoscenza biblica anche in virtù del fatto che la conoscenza biblica aumenta man mano che il cristiano cammina e cresce nella fede nella santificazione e quant'altro è tutto correlato non puoi mai separare le cose altrimenti questo non lo dico a te adesso sto facendo il discorso generale perché è un video pubblico anche se ti rispondo a te ma rispondo a migliaia centinaia di altri fratelli dico migliaia perché la peculiarità di questo canale risiede nel fatto che anche se io tra virgolette faccio poche visualizzazioni per esempio un video 700 800 mille visualizzazioni però siccome ci sono decine di pastori e ministri che seguono questo piccolo canale a sua volta entro in molte altre realtà ok quindi parlo sì a migliaia di persone direttamente o indirettamente così come io ricevo insegnamento anche da altri ministri e quant'altro è un arricchirsi a vicenda ok e quindi man mano tu vai crescendo e quindi approfondendo il concetto biblico allora l'apocalisse è il giorno del signore è chiamato così ora io non voglio troppo essere elementare e nello specifico da una parte perché se tu dici che stai preparando uno studio sull'apocalisse io presumo che tu sei un insegnante uno che insegna e quindi già conosci almeno l'abc minimo devi conoscere minimo l'abc dell'apocalisse quindi sai perfettamente che l'apocalisse il giorno del signore la distretta di giacobbe chiamata in geremia capitolo 30 altresì chiamata come quel giorno in quel tempo la grande tribolazione e così via discorrento e questo durerà sette anni lo sappiamo perché perché tutta tutto tutta la bibbia fa sempre enfasi su quei tre anni e mezzo e lo sappiamo tutti questo il perché è l'abc della bibbia perché è dai tre anni e mezzo secondi della grande tribolazione che che la i credenti di gesù cristo in gesù cristo saranno completamente annichiliti e devastati decapitati però tutto quanto il giorno il giorno questo giorno unico al signore grande il giorno del signore anche questo è un altro termine apocalittico durerà sette anni infatti daniele 9 dal 27 in poi no 27 e l'ultima settimana delle 70 settimane sono settimane di anni e questa è la settimana apocalittica è l'abc della bibbia e lo abbiamo già spiegato perché nelle prime 69 settimane a un certo punto noi troviamo un tempio ma ci viene altresì detto che questo tempio sarà distrutto e così è avvenuto nel 70 dopo cristo però se tu vai nella settantesima settimana parla di sacrificio quindi di tempio quindi lì ti sta preannunciando ti sta annunciando ti sta profetizzando che il tempio sarà ricostruito quando nell'ultima settimana oggi il tempio non c'è però sappiamo che sta per essere ricostruito insomma sto andando a correre perché sto parlando con uno studioso e poi di video ne abbiamo fatti veramente una infinità e ci vogliono anni per seguire tutto apro parentesi il mio pastore mi diceva sempre ci diceva ci insegnava Ezio evangelisti e la gente viene due tre annetti non sto riferendomi a te come discorso generale due tre annetti capiscono quelle quattro cose e si vogliono mettere subito a insegnare a fare i pastori a fare questo a fare video su youtube a fare qua tutti maestri questo non è riferito a te come discorso generale lo dico perché è perché per maturare il discorso soprattutto escatologico ci vogliono anni io per dieci anni sono stato a casa andato a casa del mio pastore costantemente sia per la comunione fraterna tutte le settimane due tre quattro volte a settimana per dieci anni circa e sia per imparare per fargli le domande bibliche insomma eccetera 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 quindi questo è il giorno del Signore quindi per rispondere alla tua domanda dopo aver ricordato averti ricordato che tu già lo sai che cos'è il giorno del Signore tu sai benissimo che a proposito dei 144.000 i 144.000 dove nascono non devo neanche andarlo a cercare nella Bibbia perché sono cose talmente elementari che le sappiamo a memoria nascono in Apocalisse capitolo 7 e quindi i 144.000 vengono sigillati tu dici no e com'è possibile che muoiono allora visto che sono sigillati per essere protetti ma tu dobbiamo capire quello che sta dicendo c'è il significato delle parole il sigillo il sigillo che cos'è il sigillo e dobbiamo capire che cos'è il sigillo che i 144.000 saranno protetti è una verità ma che non moriranno non è una verità non sta scritto in nessuna parte che loro non dovranno morire i sigilli ma il sigillo di Dio noi abbiamo anche noi abbiamo il sigillo di Dio che è lo Spirito Santo questo è l'abc della Bibbia i credenti sono sigillati con lo Spirito Santo se tu vai se tu prendi una chiave biblica e scrivi sigillo scoprirai un grande mondo quindi loro vengono sigillati vengono riempiti di Spirito Santo vengono protetti dalle calamità spirituali che si abbatteranno sulla terra verranno protetti eccetera 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 però se tu noti bene nel capitolo 13 succede un qualche cosa di molto interessante nel capitolo 13 e anche nel capitolo 11 si concretizza un qualche cosa di molto interessante a proposito di grazia ma questa è un'altra storia poi vediamo se inserircela nel capitolo 13 dice nero su bianco che c'è una prima bestia e una seconda bestia e dice che la prima bestia uccise tutti i cristiani gli uccise tutti e che non c'è un solo luogo dove fuggire strano vero perché in Matteo 10 ci dice quando vi perseguiteranno in una città fuggiti in un'altra città quindi ci sarà sempre un posto dove fuggire infatti oggi nonostante la persecuzione del cristianesimo è arrivata alle stelle in 50 nazioni ci sono milioni di morti ogni anno per Cristo ma restano altre 135 nazioni circa dove fuggire anche nel periodo più buio dell'europa del cinquecento furono scoperte le americhe dove cristiani potessero scappare stranamente in apocalisse 13 ci viene detto che non ci fu un solo luogo dove fuggire e quindi come si concilia apocalisse 13 con Matteo 10 allora o la Bibbia dice il falso e questo è impossibile oppure la chiesa non c'è dentro il giorno del Signore e infatti non c'è interessante notare che Matteo mi ricordo se 16 dice anche le potenze dell'inferno non potranno contro di voi non non niente eppure in apocalisse 13 vediamo la chiesa completamente devastata interessante notare che il Signore ci chiama a benedire i nostri nemici a pregare per loro e ad amarli ecco da qui tu riconosci un vero credente quando uno che dice di essere credente dice e su internet ti dice ti denuncio quando la parola di Dio dice amati i vostri nemici quelli che vi perseguitono nella fede capisci che non è ripieno di spirito santo ma è un figlio del demonio ok quindi in tutto il Vangelo cominciando da Matteo capitolo 5 vedi queste sono tutte cose che noi sappiamo bene a memoria in Matteo capitolo 5 ci dice amati i vostri nemici quindi è l'Evangelo della grazia a un certo punto quando andiamo in apocalisse 11 troviamo che i due testimoni facevano piovere dal cielo sangue per tormentare e uccidere e quindi di conseguenza questi muoiono gli uomini che non credevano ecco qui la fine della grazia nel giorno del Signore quindi noi vediamo che proprio la chiesa non c'entra niente nel giorno del Signore ed è correlato alla tua domanda tutto questo sembra che non c'entra niente no no tutto correlato adesso più che rispondere a te faccio anche un discorso a tutti a tutti a tutti quanti infatti in apocalissi i primi tre capitoli troviamo il termine chiesa 19 volte 19 volte improvvisamente il termine chiesa scompare e allora i post tribolazionisti che non capiscono un tubo scusate la mia franchezza dicono ah ma non vuol dire niente che non c'è più il termine chiesa comunque c'è la chiesa che vengono chiamati santi alt alt tu a un certo punto per tre capitoli trovi 19 volte il termine chiesa 19 poi sparisce e per te questo non fa nulla e comunque ci sarebbe la chiesa perché vengono chiamati santi no quei santi sono quelli dell'antico testamento che vengono chiamati santi che sono gli ebrei che troviamo in apocalisse 7 che si convertono a cristo e che vengono sigillati e che nel capitolo 13 è scritto che muoiono tutti quanti e in virtù del fatto perché la bibbia la devi prendere tutta in virtù del fatto che in apocalisse 13 muoiono tutti quanti guarda caso in apocalisse 14 dice è quello che leggeremo diremo e faremo lo leggeremo lo diremo e lo faremo sempre nel nome del padre del figlio dello spirito santo che è benedetto in eterno a me mi è caduta la penna non fa niente gloria a dio ce n'ho un'altra poi vidi ed ecco l'agnello apocalisse 14 che stava in piedi sul monte di sion ok quindi l'agnello sta sul monte di sion allora l'agnello sta sul monte di sion quale sion se tu studi la parola di dio quando si parla di sion ci si può riferire a gerusalemme al monte di sion ci si può riferire al terzo cielo però devi studiare la bibbia ovviamente siccome tu sei uno che insegna bibbia perché stai preparando uno studio sull'apocalisse queste cose le devi sapere quindi quando si parla di sion si può parlare anche del terzo cielo ok quindi stava in piedi sul monte sion e con lui c'erano 144 mila persone che avevano il suo nome il nome del suo padre scritto sulle fronti e io udì dal cielo a guisa ad un suono di molte acque e a guisa ad un rumore di grande tuono e a voce che io udì era come di cetratori che suonavano in sulle cetere cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro animali e davanti ai vecchi e ognuno poteva imparare il cantico se non quei 144 mila i quali sono stati comprati dalla terra allora qui la parola di dio ti dice nero su bianco che dopo apocalisse 13 che dice che furono uccisi tutti quelli che portavano il nome del signore guarda caso apocalisse 14 ti dice che questi 144 mila ok il contesto in cui si trovano è il terzo cielo infatti verso tre cantavano un cantico nuovo davanti al trono il trono non si trova in gerusalemme fisica ma nel terzo cielo davanti ai quattro animali davanti ai vecchi e non poteva imparare il cattico se non che questi 144 mila che sono stati comprati dalla terra eccetera 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 quindi è di una non solo semplicità inaudita ma di una chiarezza disarmante è molto chiaro molto e molto semplice e come dire è l'abc è quello è il latte che si dà ai bambini che iniziano a studiare l'apocalisse per un domani se saranno chiamati dopo anni di fede cristiana e quant'altro se il signore li chiamerà eccetera 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 a insegnare eccetera 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 quindi tornando alla tua domanda dove abbiamo la certezza che i 144 mila vengono uccisi visto che sono stati sigillati da gesù per essere protetti dall'anticristo e ti domando io a te da dove nasce questa domanda in virtù di tutto quello già detto fino adesso molto semplice questa è la mia risposta prendere o lasciare ripeto tu mi vuoi fare delle osservazioni benissimo e io ti rispondo con delle domande con scusate con delle risposte e a sua volta delle osservazioni allora riguardo alla seconda domanda legata comunque quel a questa a quella precedente non vengono appartati dei quattro angeli in matteo 24 dove stanno facci capire dove in matteo 24 leggi che ci stanno 4 4 angeli 4 12 4 dove stanno io non li ho mai letti 4 a io i quattro angeli li trovo in apocalisse 9 e così via discorrendo non in matteo 24 in matteo 24 quando parla degli di questo già ne ho parlato c'è un video dedicato di quando parla che gli angeli raduneranno i suoi eletti che non dice quattro angeli ma raduneranno i suoi eletti e ho già l'ho spiegato questo la tromba del rapimento della chiesa che si trova in prima testa non dicesi 4 non la suonano gli angeli e neanche un angelo ma la suona cristo stesso e quella è la tromba del rapimento in matteo 24 troviamo gli angeli che radunano il suo popolo perché noi sappiamo che il suo quando il signore tornerà per la seconda volta radunerà queste ci sono le professie veterotestamentarie che si trovano soprattutto in isaia e abbiamo fatto dei video dedicati dove appunto vanno il signore il signore andrà a radunare il suo popolo evidentemente anche attraverso gli angeli ma questa è un'altra storia ok quindi entreranno poi insieme agli eletti credenti sopravvissuti che entreranno poi nel millennio no non dice anche i gentili che verranno radunati parla degli ebrei quindi c'è un po' di confusione poi dice ci sono 21 giudici e amenne anche se dici anche se il settimo apre alle sette trombe e la settima tromba apre alle sette coppe quindi che vuoi dire con questo certo nel settimo sigillo e nella settima tromba ci sono dei movimenti li chiami tu ma li considererei più come passaggi che giudici che ne penso e che ne penso che ti manca ti mancano penso che ripeto tu hai delle osservazioni e beh io non ho tanti peli sulla lingua penso che che ti manca proprio leggere leggere la bibbia nella sua semplicità e credervi ecco che cosa ne penso allora tu dici che consideri considereresti il settimo sigillo che apre alle sette trombe e la settima tromba che apre alle sette coppe come dei movimenti più come passaggi che come giudici vogliamo vedere allora io ho fatto l'ho fatto apposta guarda no scusate i fratelli hanno fatto su mia gentile richiesta due file uno ce l'ho qua dove sia una sorella che un fratello hanno fatto un lavoro formidabile dove vengono riassunti in poche parole tutti i 21 giudici quindi abbiamo i primi sette sigilli le prime sette trombe e le ultime sette coppe interessante notare allora tu qui fai allusione fammelo sottolineare al settimo sigillo che apre alle sette trombe e la settima tromba tu li consideresti come dei passaggi vogliamo vedere il settimo sigillo se non è nero su bianco un vero e proprio giudicio una calamità oltre che poi aprire certo che apre ma questo non ha nulla che sia un giudicio settima allora settimo sigillo dice apocalisse capitolo 8 i primi versi potete leggerlo che ci fu in cielo silenzio per mezz'ora al di là del fatto che se vogliamo fare teologia su questo silenzio se non è se non è una vera e propria calamità quando il cielo fa silenzio il terzo cielo fa silenzio quando Dio non si muove però non voglio essere semplice togliamolo questo ci sono sette angeli con sette trombe pronti c'è un turibolo pieno del fuoco dell'altare gettato sulla terra quindi qualcosa viene gettato sulla terra e questo provoca suoni tuoni folgori e un terremoto quindi quando dice che ci sarà un terremoto oltre tutto il resto amico mio se noi leggiamo i terremoti allora dice che lo gettò sulla terra apocalisse 8 verso 5 poi l'angelo prese il turibolo l'empì del fuoco dell'altare wow cosa terribile sono le cose di Dio io penso che non si è capito che cosa sarà la grande tribolazione lo gettò sulla terra cioè non dice lo gettò sopra Roma sopra Bogotà sopra le Canarie sopra anche una vasta regione un continente no no sulla terra quindi qui viene ok coinvogliata la terra e questo provocò suoni tuoni folgori e terremoto sta parlando che ci sarà un terremoto sulla terra nel giudizio del Signore ci sono tre terremoti che vengono enfatizzati e sono terremoti tremendi un terremoto che ti fa perdere tutto che fa crollare casa tua magari l'unica casa che c'hai con tutti i mobili tutto quanto il computer il lavoro i documenti i soldi se ce li hai tutto perdi tutto in tre minuti in sette minuti in quindici minuti perdi tutto e se questo viene moltiplicato per tutta la terra wow e per te questo non è un giudicio in più in più questi qua aprono appunto a sua volta ad altre calamità quindi anche se fosse che aprisse che non è solo così ad altre calamità ma il fatto di girare la chiave per far entrare qualcosa non è quello un giudicio non è quella una calamità qualora fosse solo quello che abbiamo visto che comunque non è solo quello quindi ripeto tu mi fai delle osservazioni anche io poi dici parli della settima tromba anche e vogliamo vedere la settima tromba adesso abbiamo visto il settimo sigillo vogliamo vedere la settima tromba sempre qui nel file dove viene riportato quello che è scritto poi in Apocalisse perché la settima tromba va a coinvogliare il capitolo 11, 12, 13 e 14 di Apocalisse quindi pensa quanto questa cosa è forte questa settima tromba dice che il settimo angelo suonò il regno di Cristo è venuto profezia grande segno del cielo la donna che è Israele vestita di sole ai cui piedi era la luna sopra la cui testa era una colonna di 12 stelle nel cielo il segno del dragone che aveva sette teste e dieci corna con questi sette diademi ok? viene gettato sulla terra cioè tu ti immagini tutte le potenze dei cieli sataniche gettate sulla terra quello che può succedere qua cioè ma tu ti rendi conto e questo sta nella settima tromba ti rendi conto che wow wow se già il mondo è quello che è pensa che sarà in quel giorno Israele è perseguitato va nel deserto ahiaiai di quei giorni l'anticristo palesato il falso profeta palesato i cristiani uccisi nella settima tromba questo avviene dentro la settima tromba e non è un giudicio ma tu lo considereresti più come dei passaggi? tre angeli proclamano i giudici di Dio un angelo proclama il Vangelo agli abitanti della terra perché sono stati tutti quanti uccisi compresi 144.000 non c'è più nessuno che proclama l'Evangelo poi si convertiranno degli altri e quando il Signore tornerà per la seconda volta è scritto in Apocalisse in Zaccaria che i suoi non lo riconosceranno quando tornerà la seconda venuta di Cristo gli diranno cosa sono quelle quelle ferite che hai nelle tue mani un cristiano non fa queste domande quindi vuol dire che nel suo popolo non ci sarà un solo convertito perché sono tutti morti compresi 144.000 e poi dice che eccetera 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 e questo è il video quindi cosa ne penso cosa ne penso ti ho già risposto penso che appunto come hai detto tu buongiorno Alessio buongiorno a te Dio ti benedica grazie per scrivere non ti offendere se mi segui mi conosci sai perfettamente che io penso dico quello che penso penso che c'hai un po' di confusione e quindi non lo so io ti ho dato la mia risposta quindi vuoi fare uno studio sull'Apocalisse io desumo che quando uno sta preparando uno studio sull'Apocalisse per darlo agli altri non penso che uno fa prepara uno studio sull'Apocalisse per se stesso almeno nella logica nella lingua italiana casomai dice sto studiando l'Apocalisse allora sì ma se tu dici sto preparando uno studio io do per scontato che sia per gli altri quindi prima di metterti a insegnare il mio consiglio è cerca un attimino di gettare radici più solide dice non ti ho chiesto nessun consiglio sì ma fa parte del pacchetto a me dispiace insomma il mio obiettivo non è quello di offendere nessuno però di dire le cose come stanno quindi io ti saluto ti ringrazio ti benedico benedico la tua vita la comunità dove tu vai la tua famiglia la tua persona l'anima tua quindi che Dio ti benedica grazie e ripeto spero tu non non ti offenda ok perché l'intento mio non è offendere nessuno semplicemente dire le cose come stanno grazie ti saluto il video per quanto riguarda la risposta le risposte che dovevo darti secondo il mio parere sono queste detto questo mi rivolgo a tutta la fratellanza che mi segue allora adesso togliamo questo caro fratello amico che ci ha scritto ricordate sempre di adesso lo dico a tutti quelli che seguono il canale di essere maturi io ricordo anni fa come c'era molta immaturità ovvero bastava vedere un filmato di uno che faceva un battesimo nell'acqua alleluia gloria a Dio fratello 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 che lo conosci sai chi è sai come si chiama e sai quello che sta facendo se lo conosci amenne se non lo conosci aspetta perché tu vedi un video di qualcuno che sta facendo un battesimo nell'acqua e poi vieni a sapere che è un antiderenitario e poi vieni a sapere che porta dottrine di demoni e così via discorrendo quindi prima informatevi ricordate sempre di pretendere la storia di chi parla ok se è un un giovane nella fede se chi è il suo pastore se viene seguito se fa parte di una comunità come tutti quanti noi se è un anziano come me chi sei da dove vieni che storia hai chi era il tuo pastore come si chiamava il tuo pastore e così via discorrendo tutti noi anziani predicatori pastori ministeriati abbiamo una storia veniamo la rendiamo nota la rendiamo palese abbiamo comunione con altri del corpo di Cristo altri ministeri altri ministri e così via discorrendo quindi chiedete sempre la storia di chi ascoltate di quale realtà fa presente e fa parte perché spiritualmente parlando io non posso dire io sono salvato perché sono evangelico pentecostale che dice questo è endemoniato io non sono salvato per far parte della chiesa evangelica pentecostale signore sgridi il diavolo io sono salvato perché sono di Cristo e qui non c'è né denominazione né niente spiritualmente parlando ma materialmente parlando a me fanno ridere quelli che si fanno chiamare interconfessionali che non esiste la stessa interconfessionalità è una confessione perché secondo quello che tu dici tu sei se tu dici io non sono cattolico ma porti un credo cattolico tu sei cattolico se tu dici no io non sono ufologo alla Mauro Beglino ma porti l'ufologia tu sei ufologo ma sono ignostico e se tu dici io non sono evangelico ma porti la dottrina evangelica tu sei evangelico quindi cercate sempre di capire chi ascoltate chi ascoltate di chi è da dove viene come si chiama di quale chiesa fa parte perché il predicatore soprattutto è sincero e lui stesso se è sincero ti dirà chi è dove va di quale chiesa fa parte se è un predicatore un anziano che è itinerante giustamente ti dirà da dove viene qual è il suo percorso che sono stati i suoi pastori mi sono perso la penna e l'ho ritrovata ma non ce la faccio a prenderla eh signore santo eh signore mio diciamo a farlo dopo eh ma io so capocione lo sai che so capocione mi madre sei piuttosto tu che insomaro c'hai ragione piano piano a forza le mazzate cambierò state tranquilli state tranquilli Dio vi benedica ho finito volevo via la penna ecco l'ho presa niente e spero questo video sia di edificazione è durato tanto e vabbè pazienza signore vi benedica con voi come sempre Alessio Evangelisti Shalom Alla Grazie.